ciao ragazzi buongiorno benvenuti in questo fantastico posto questo weekend finalmente sono tornato a bivaccare e oggi da questo spettacolo che mi circonda volevo parlarvi del mio zaino per zaino invernale per bivacchi è lo zaino che uso appunto quando nel periodo invernale vado a bivaccare ci tengo a sottolineare che non è lo zaino che uso quando vado in tenda nel periodo invernale cosa che peraltro accade molto raramente è lo zaino che uso specificatamente nei bivacchi come vedete è uno zaino è il mio zaino più grande al 48 48 litri ovviamente nel periodo invernale non sono così minimalista o meglio tendo sempre a essere minimalista a portare il minimo il minimo necessario però sta di fatto che in inverno il clima è più duro e quindi il necessario è ovviamente di più quindi ci vuole un zaino un po più grande sarebbe infatti stupido voler essere a tutti i costi super minimalisti super ultra light quando nel periodo invernale ci possono essere dei problemi ci possono essere delle difficoltà date dal clima molto più rigido bene parto parlandovi velocemente di quello che ho addosso di quello che ho all'esterno dello zaino partendo da quello che indosso appunto i piedi o gli scarponi in goretex la sportiva poi sotto vi metto tutti i link della mia attrezzatura quindi scarponi calzini calzettoni in realtà in merino pantaloni lunghi molto sottili perché per quanto mi riguarda anche se è molto freddo mentre cammino non ho mai 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 freddo alle gambe anzi a volte rimpiango anche di non essere in in pantaloncini corti dopodiché sotto ho un una maglietta maniche lunghe in merino il mio amato merino e sopra ho il mio solito pile che conoscete bene per quanto riguarda il pile appunto ovviamente io adesso ce l'ho addosso però spesso capita che anche se è molto freddo ma mentre cammino caldo e quindi il pile va da sé che lo lo piazzo sopra lo zaino ecco dopodiché vabbè immancabile berretto o le ghette e le mie ciaspole le mie adorate ciaspole della msr sono le lightning explorer sono ciaspole abbastanza leggere molto molto comode che offrono comunque un'area una superficie molto molto grande io mi trovo strastrabene guanti guanti io ho provato un po di tutti i tipi sono arrivato alla conclusione che questi qua che sono i guanti da lavoro che uso invernali in campagna sono anche impermeabili sono veramente il top per una cosa tipo 5 euro dopo di passiamo alla parte esterna dello zaino cos'ho all'esterno dello zaino intanto se mi permettete mi tiro fuori il mio bel sit pad così mi ci siedo in realtà non è un sit pad è il termarest z light tagliato in sei elementi in bivacco lo porto lo porto sempre perché è veramente un mi sembra che abbia un r value di 2.8 che è incredibile per un materassino in schiuma è veramente eccezionale si può sedersi sulla neve senza alcun problema quindi il materassino molto versatile lo adoro veramente si può usare per sedersi sulla neve fare la pausetta si può usare in bivacco sulla panca che comunque sempre un po freddo sedersi direttamente a contatto col legno quello che è e poi lo uso anche eventualmente appoggiandolo nella parte di materasso nel caso nel bivacco ci fossero dei materassi nella parte di materasso dove vado a mettere la testa in modo da proprio non svegliarmi con la lingua spianata su una cacca di topo andando avanti o qua all'esterno il mio materassino gonfiabile questo ce l'avevo sul pct termarest x term è un r value mi sembra 5 7 questo qua poi puoi dormire anche praticamente sul sul ghiaccio e lo porto quando vado in un bivacco e non sono convinto se c'è il materasso o meno anche se la tendenza adesso sarebbe imparare perché voglio imparare a dormire sul termarest z light in schiuma e portarmi solo quello magari versione completa o con qualche elemento in più e lasciare a casa questo in modo da avere da usarlo come sit pad il x light e z light e usarlo anche eventualmente come materassino di emergenza andando avanti vabbè qua ho il bleder la vescica del sawyer del filtro che poi ho all'interno della mia food bag mi porto il filtro in bivacco perché spesso bisogna sciogliere la neve no quindi noi sciogliamo la neve quindi invece che starli aspettare di bollire l'acqua sulla fornesella sulla stufa la semplicemente la sciolgo e poi la filtro perché ci sono sempre dentro delle impurità degli insettini pezzettini di ramo delle cose che è meglio non mangiare ecco quindi gli do una filtrata non bere meglio gli do una filtrata e a posto così attenzione però per il filtro adesso che mi viene in mente dato che siamo in periodo invernale è estremamente estremamente importante è fondamentale svuotarlo bene dopo averlo utilizzato e comunque dormirci insieme o tenerlo in una tasca sempre a contatto del corpo perché se si ghiaccia cosa che può assolutamente succedere se si ghiaccia la struttura filtrante si rompe col dilatarsi del ghiaccio si rompe e la cosa brutta è che noi non ce ne rendiamo conto che si è rotta e noi continuiamo e abbiamo il nostro filtro continuiamo a filtrare in realtà non stiamo filtrando niente quindi molta attenzione col col filtro sempre a contatto del corpo comunque assicuratevi che sia in un ambiente che non va sotto zero durante la notte stessa cosa banalmente anche nello zaino non è che se poi noi facciamo lo che lo mettiamo nello zaino perché tanto poi torniamo a valle pensiamo tanto nello zaino non va sotto zero ma perché non va sotto zero nello zaino magari va sotto zero nello zaino io consiglio che se avete usato il filtro comunque poi tenetevelo in tasca finché arrivate a casa così siete sicuri di non di non romperlo e come ripeto non è tanto per il costo del filtro che vabbè sì sono 30 euro 40 euro circa è proprio per il fatto che poi avete un filtro che non filtra e non lo sapete e non è bello appunto più che altro prendersi su qualcosa perché abbiamo un filtro che non filtra andiamo avanti su questo lato ho la mia la mia bottiglia d'acqua qua vedete che poco ultralight che è una tupperware che ho trovato in un lago abbandonata in bivacola porto perché comunque poi ci metto ogni tanto la uso come abajur ci metto la svito ci metto il frontalino sopra acceso e mi fa effetto abajur e poi vabbè appunto l'inverno non sono come ripeto ultralight quindi ci sta anche una bottiglia che pesa non lo so quanto pesa non ne ho la più palida idea però pesa dopodiché un mio aggeggino che mi piace molto che lo uso sia in montagna che al lavoro è il mio seghetto adesso appunto nel periodo invernale lo uso molto spesso in campagna nella potatura dei frutteti quando c'è un ramo troppo grosso per la forbice uso il seghetto seghetto eccezionale secondo me è una cosa veramente veramente importantissima da avere quando si va in bivacco perché non è assolutamente sicuro che nel bivacco troviamo una sega non è sicuro che troviamo una sega che taglia e non è sicuro che troviamo legna in bivacco ad esempio ieri qua non abbiamo trovato legna non abbiamo trovato legna e allora cosa cosa fai seghetto sono andato lì nel bosco a 100 metri da qua ho cercato un albero dove i primi palchi erano belli secchi e con questo ho fatto un paio di belle fascine anche comunque per reintegrare la riserva del bivacco perché non è che come ripeto come ho già fatto un ho già detto in un altro video non è che sia proprio il massimo del comportamento venire in bivacco razziare la legna e non contribuire neanche un po alla legnaia secondo me bisognerebbe come minimo lasciare la quantità di legna che abbiamo trovato meglio se ne lasciamo un pochino di più qui fa sempre parte del discorso legna l'inverno mi porto sempre una fettuccia può essere una fettuccia di queste comunque è abbastanza pesante col cricchetto tipo quelle per legare i bagagli sopra il portapacchi dell'auto una cinghia proprio e se no si può usare anche un cordino io lo uso per fare le fascine di legna e poi trascinarle in bivacco al bivacco anche questo è molto importante perché c'è se no veramente non è che possiamo andare in giro con tre legna alla volta e farci 100 metri 150 metri dal bosco ci risparmia tanta fatica ci permette appunto di fare delle belle fascine e portarle agevolmente avanti in bivacco non è mai bello arrivare e doversi tenere gli scarponi bagnati no perché non si ha altro quindi io mi porto o delle ciabatte oppure stavolta ho optato per delle scarpe più leggere che queste sono leggendarie io le adoro perché queste scarpe qua hanno fatto il pct da crater lake al border quindi non mi ricordo che miglia ma quante miglia ma ve le metto e poi ne ne ho fatte sopra altre 500 quindi è una cosa cioè sono praticamente decomposte però reggono ancora un pochino allora ho detto dai che adesso le converto come scarpe da campo scarpe da campo scarpe da bivacco sono leggere quindi io arrivo in bivacco mi levo le mie cose mi metto i calzini asciutti che poi vi faccio vedere che ho dentro mi metto le scarpe quindi sto bello al caldo e all'asciutto mi permette anche mi permettono anche di uscire fuori e ovviamente se devo fare la pipì eccetera questo cordoncino l'avete già visto è il mio cordoncino elastico rosso che uso per utilizzare il sacquapelo a modi poncho quilt se è veramente freddo se voglio uscire a guardare le stelle stare fuori parecchio se voglio farmi un po di meditazione respirazione wim off me lo metto su e sono a posto entriamo in questo zaino così finalmente posso mettermi la giacca partiamo appunto dalla giacca ecco durante l'inverno non uso la giacca che uso durante l'estate uso una giacca che è leggermente più pesante sempre leggerina come peso ma è un po più pesante e soprattutto un po meno delicata perché la enlighten equipment che uso è molto molto leggera ma è molto molto delicata questa qua è un po meno delicata quindi uso questa di solito se mi permettete me la metto adesso ecco qua meglio 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 food bag adesso gli ho tolto gli alimenti però vi faccio vedere a parte alimenti cosa ho dentro a proposito di alimenti quando vado in bivacco solitamente ci vado per faccio due giorni quindi una notte è raro che faccia due notti in bivacco e quindi mi concedo del cibo meno meno razionale meno ultra light più gustoso più buono se vogliamo anche un po' più calorico a volte perché non ha senso star lì a calcolare troppo i grammi se si fa un'escursione di due giorni cioè sono il primo a dire che se uno vuole portarsi su non lo so lo stinco di maiale o se vuole portarsi su la polenta precotta sparo anche se in realtà è facilissimo farla in bivacco ci sta alla fine perché no in una giornata di cammino una giornata su una giornata giù ci sta l'extrapeso non è assolutamente un problema padellina solita allora nella padellina vabbè ho il sale o il frontalino solito frontalino ricaricabile spazzolino da denti coltellino cucchiaio olio nella confezione di listerine il sawyer questa cosa qua che della quale vado molto fiero che è un fornello ad alcol allora in bivacco ho deciso che non uso più il fornello a gas una cosa che mi dà proprio fastidio dei fornelli a gas è che non so mai dove buttare le latte cioè si fanno comunque dei rifiuti ecco che il fornello ad alcol tra l'altro questo fatto da paiolo semplicissimo me l'ha regalato grazie paiolo funziona da dio non pesa niente questo qua non l'ho pesato ma penso che arrivi forse a 10 grammi dai forse 15 grammi col tappo ecco c'è da dire che il problema dei fornelli ad alcol è il vento cioè non deve esserci vento oppure se c'è vento ci vuole un windscreen ma nel bivacco non c'è vento ovviamente se c'è vento in bivacco è grave insomma quindi con questo alcol qua che è veramente poco io faccio 4 4 barra 5 bolliture della della mia padellina quindi plenty of fuel e in più si riduce il consumo di gas e quindi il rifiuto in termini di quelle cavolo di bombole che non so mai dove buttare se sapete dove buttarle fatemelo sapere perché c'è no lì l'armadio pieno di bombole vuote altra cosa che ho nel mio nella mia food bag è il kit di pronto soccorso dopodiché ho la parte elettronica power bank e cavi questo spesso lo lascio di fuori il mio come si dice la busta per toilette per andare in bagno quindi carta igienica a mucchina immancabile ah ecco anzi dimenticavo nella padellina tengo sempre anche così per emergenza un paio di cubetti di diavolina per se il fuoco fosse troppo difficile da accendere così semplicemente usando un po di carta e legnetti ecco stavolta ho la bandana però in realtà la bandana in inverno non la uso perché di solito porto sempre con me un fazzoletto di di tela di tessuto quindi mi fa la stessa funzione della bandana una cosa che voglio condividere con voi è questo cibo qua cibo da bivacco numero uno è tipo galbanino è un formaggio non è che sia il top con bontà comunque è un formaggio che fuso diventa buono è un formaggio però la cosa importante è che è avvolto in un involucro di cera e quindi noi abbiamo un alimento e poi abbiamo un sacco di cera per fabbricarci una candela per il bivacco che dà sempre una certa atmosfera attenzione a giocare con la cera che stiamo attenti a non incendiare tutto bene questa è la food bag unita dopodiché passiamo al vestiario abbiamo il mio secondo paio di calzini che metto sempre in bivacco solo in bivacco quindi quando arrivo e mentre dormo poi nel frattempo col fuoco asciugo la roba che mi si era bagnata salendo e il giorno dopo così ce l'ho asciutta adesso vi stupirò perché ho una cosa estremamente pesante proprio di peso è questa questo maglione che adoro ormai è molto usato logro anzi se qualcuno sa dove si compra questo questo brand che non ho mai capito se è un brand o cosa se me lo possono se me lo potete dire perché questa maglia qua è la miglior maglia invernale che abbia mai avuto non ha un pelucco non ha niente è caldissima ok è un po pesante ma è veramente molto più calda di quello che può essere un piumino un piumino una giacca di questo tipo quindi io in bivacco non me ne frega niente se pesa non lo so 600 grammi questa viene con me anche se è voluminosa poi 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 calzamaglie calzamaglie perché appunto appena arrivo in bivacco mi levo i pantaloni mi metto le calzamaglie asciugo i pantaloni se sono bagnati e me li metto sopra le calzamaglie e sono a posto sono a posto come temperatura per le gambe poi siamo giunti quasi al termine ho la sacca di pompaggio per il materassino gonfiabile se me lo porto e ultima cosa che vi prego non fatemelo tirar fuori completamente comunque fidatevi è l'ultima cosa è il sacquapelo sacquapelo che lascio sempre sul fondo no scusatemi se non lo tiro fuori completamente ma poi è un po una menata rimetterlo dentro l'ordine nel quale metto dentro la roba ha un senso nel senso che è un ordine determinato dalla frequenza di utilizzo dal quando utilizzo le cose ovviamente sacquapelo è alla fine è l'ultima cosa perché è l'ultima cosa che tiro fuori a sera quando vado a dormire alla fine della giornata la giacchetta invece che è quella che tengo più in alto è semplicemente più in alto perché la uso molto molto di frequente anche mentre salgo mentre cammino magari la metto se faccio una pausa poi me la levo poi ho il cibo che anche quello lo utilizzo lo apro di frequente e così via no dall'attrezzo dall'oggetto più utilizzato almeno utilizzato dall'utilizzato subito all'utilizzato dopo alla fine della giornata l'ultima cosa che quasi dimenticavo sono gli occhiali da sole che in caso di neve e sole sono sono veramente fondamentali bene ragazzi io per quanto riguarda questo video ho già finito spero che vi sia interessato io adesso entro in bivacco e butto dentro altri altri due legni prima che si spenga il fuoco che sto qua anche a pranzo poi vado a fare un altro po di legna e vi saluto e vi mando il mio augurio che questa situazione un po di situazione difficile possa possa finire al più presto e possiamo tornare un po tutti a godere dei posti che amiamo di più sempre però in totale rispetto e umiltà scusate ragazzi so che ho già concluso il video ma volevo condividere con voi dato che l'ho chiuso un po parlando accennando al rispetto ecco questo è l'immondizia che ho che ho raccatato in bivacco bottiglie di plastica vuote sacchetti di cibo lasciati a metà con le solite cacche di topo dentro plastiche plastiche ovunque nastrini residui di non si sa cosa tappi di bottiglia e insomma le solite cose la gente che non ha rispetto per questi luoghi c'è e ci sarà ecco perché noi dobbiamo averne il doppio per compensare anche per loro perché la situazione è questa e si può arrabbiarsi ma le cose non cambiano si cerca di fare quel poco che è il nostro potere è tutto qua insomma bene io sto rientrando anche il mio la mia divaccata finita e anche questo video giunge al termine io vi saluto ragazzi e ci vediamo alla prossima ciao ciao